Siamo insieme a Susanna Crociani della Cantina, Crociani di Montepulciano. Allora, il progetto di sostenibilità del Consorzio è un progetto che è al punto di partenza, anche se a termine di un grande percorso. Ecco, cosa ne pensa la sua azienda e come ci stiamo organizzando? Allora, un progetto di sostenibilità è un progetto importante, ritengo fondamentale, per il futuro del Consorzio e quindi anche per il futuro di tutti noi produttori. Perché, diciamo, essere sostenibili non vuol dire soltanto produrre un vino biologico, essere sostenibili è molto di più, vuol dire avere a cura la biodiversità del territorio, avere rispetto del consumo dell'acqua e ogni cantina, ognuno di noi, chiaramente partendo magari cercando di costruire impianti fotovoltaici, usando il minor numero possibile di sostanze che possano essere impattanti, e che possano creare problemi al terreno, ci stiamo veramente organizzando. Però tutto questo passa anche da piccole cose, piccole sensibilità, tipo la plastica con cui arrivano, per esempio, le bottiglie in cantina, che viene riutilizzata per coprire i pallet, quindi le spedizioni grandi che vengono spedite. Lo stesso vale per il cartone, si cerca sempre di riutilizzarlo, di dargli nuova vita. E questo penso che sia il segnale più bello che noi stiamo cercando di dare e che diamo anche a chi verrà dopo di noi, perché cerchiamo comunque di lasciargli un posto migliore. Indubbiamente un sano principio. Allora, la degustazione, che annata abbiamo per questa anteprima del Nobile? L'annata 2020, un'annata molto calda, però a giudizio penso da tutti i giornalisti che sono venuti anche qui magari a parlare, è un'annata che si sta presentando bene, un'annata diciamo un po' più immediata magari rispetto anche a altre annate, è un'annata molto piacevole e quindi ci aspettiamo grossi risultati. Speriamo e siamo convinti che quest'anno comunque stiamo partendo con il piede giusto. Siamo con Caterina dell'azienda Carpineto, che ovviamente ha sposato la filosofia di sostenibile e che il Consorzio porta avanti da sempre, potremmo dire. Eh sì, perché comunque è stato da sempre uno dei nostri principi di essere comunque, di avere sempre un grande rispetto per il territorio, che comunque ci dà i suoi frutti e quindi di essere sostenibili. Quindi è noi applicare il nuovo disciplinare di sostenibilità che il Consorzio sta promuovendo e che noi siamo ben felici di condividere con loro questo bellissimo progetto. Effettivamente avete basato proprio la vostra nascita su questo territorio, sulla Cantina di Carpineto, proprio con questi concetti di sostenibilità. Ecco, l'annata in degustazione qui all'anteprima del Nobile anche questo weekend? Abbiamo il 2019, è un'annata sorprendente, è una delle migliori annate che si stanno presentando, elegante come sempre, sostenibile, perché anche lì è stato facilmente da seguire insomma i principi della sostenibilità e buona degustazione a tutti. Grazie. Buona Andrea Contucci, Cantina Contucci di Montepulciano. Ciao, conosciutissima, ho un lavoro presente sul territorio, sui social. Certo, a livello di sostenibilità avete preso sul serio quella che è la parte comunicativa? Quello senza dubbio, perché siamo assolutamente coordinati e coesi con le scelte del consorzio che condividiamo, perciò noi già da anni abbiamo intrapreso un'agricoltura sostenibile veramente, utilizzando più prodotti chimici in sede di serbo, di concimazione, perciò cercando di rendere ancora più naturale quello che è il nostro prodotto e anche in cantina, perché noi producendo i nostri vini in un centro storico, in una cantina dell'anno 1000, non abbiamo energia elettrostatica, non abbiamo inquinamento, siamo super ecologici, perciò siamo assolutamente convinti che la strada è quella e la stiamo perseguendo in maniera assoluta. Infatti il consorzio punta molto su questo, anche perché poi alla base dei finanziamenti europei c'è proprio anche questa attenzione, perché poi il consumatore cerca sempre più l'autenticità nei prodotti. La vostra cantina è praticamente in Piazza Grande, è uno dei palazzi che si affaccia sulla splendida Piazza Grande, è uno dei più belli. E allora, ecco, questa presenza fissa nei secoli ci dà una tranquillità, una certezza, una speranza per il futuro. Come vede il futuro del vino nobile di Montepulciano? Diciamo, noi lo vediamo bene, perché da questo punto di osservazione particolare vediamo l'interesse che genera questo vino e il suo territorio, potrei dire con le centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno vengono a trovarci, sempre più convinti, trovando un paesaggio, un paese splendido, ma un prodotto in linea con la bellezza del paesaggio. Perciò noi l'abbiamo visto anche nei numeri del 2022, l'ultima annata che si è chiusa, che a Montepulciano c'è stato un ritorno fortissimo di turismo internazionale. Noi abbiamo fatto dei numeri superiori al 2019, cioè l'ultimo anno prima del Covid, che era stato un anno straordinario. E' il binomio Montepulciano e vino nobile che permette questo trend di continua crescita. Perciò non posso che dire vedo rose. Però i vini in degustazione sono rossi, attenzione. Allora, cosa abbiamo per la Cantina Contucci? Allora, noi presentiamo i vini che sono usciti in commercio ora, che perciò sono i tre nobili del 2018, perciò la nobile classico e le due selezioni, i due vigneti importanti, Petrarossa e Mulinvecchio, e la riserva del 2017. Perciò, come sempre, noi arriviamo al mercato con tranquillità. Non corriamo per uscire con l'annata, diciamo, più nuova possibile, ma facciamo i vini con i ritmi che, secondo noi, il nobile deve avere. Perciò queste sono le annate che presenteremo sabato, domenica e lunedì. Insieme alla Cantina De Ricci di Montepulciano, cantina storica, tra l'altro, ma non solo, in degustazione l'annata? L'annata 19, che è uscita adesso in mercato, è l'anteprima da botte, un campioncino rubato dell'annata 2020, quindi l'annata dell'anteprima di quest'anno. Ci fa sempre piacere, anche se non è un vino che sarà in commercio, non ancora imbottigliato, portarci una botticella con noi per far assaggiare cosa. L'annata 2020 è un annata paradossalmente strepitosa dal punto di vista del vino, dal punto di vista dell'annata 2020 lasciamo le parole al resto, quindi, però è una bella annata, ci fa piacere portarla. La vostra cantina è uno dei palazzi storici di Montepulciano, in centro storico, una cantina storica, però avete creato anche una nuova realtà? Assolutamente, la cantina, la sede storica della De Ricci, si trova a Palazzo Ricci, quindi nel centro di Montepulciano, ed è iscritta la cantina che fa vino dal 1337 a Montepulciano, e poi nel 1500 diventa celebre con la cattedrale di Valdassarre Peruzzi. Da lì, però, la mia famiglia si chiama Trabalzini, quindi tra le zolle, tra le balzine, tra le colline, quindi vuol dire che abbiamo naturalmente una vita molto più rurale e il centro nuovo di vinificazione, la tenuta Fonte Cornino, ci ha permesso di abbracciare a pieno quella che è la sostenibilità, essendo in un consorzio sostenibile una delle aziende che ha reso anche questo possibile, quanto siamo uniti insieme al consorzio in questo percorso. Stiamo facendo dei begli investimenti in quello che è anche l'energia rinnovabile in cantina e in tutto quello che è il mantenimento e l'aumento della biodiversità. Da quando noi abbiamo preso questa zona di terra a Montepulciano abbiamo notato degli aumenti incredibili di specie animali, specie arboree e di fiori, che ci permette naturalmente di avere una gestione molto più semplice del vigneto, non andare come in passato a lavorare nella vigna a calendario, noi siamo attenti ad ogni piccolo insetto e addirittura stiamo cercando nel contenimento di lanciare insetti che mancano nel nostro ecosistema. Quindi cerchiamo di farlo, di accogliere come filosofia produttiva che poi dopo è qualcosa che si risente nei vini. Un grande lavoro che nasce dalla passione ovviamente. Assolutamente, dalla passione e anche dall'amore per questa che è questa terra, perché qua siamo radicati, con radici di vigna e ogni anno è come l'uva, no? Ogni anno che la vigna diventa invecchia, si impadronisce in un pezzettino in più, acquisisce qualcosa e poi lo si risente nelle bottiglie. Quindi siamo legatissimi a Montepulciano.